fragilità. Costanza i tuoi libri parlano di un amore possibile? Sì, parlano appunto della necessità di affidare a qualcun altro il proprio cuore, questo ultimo che lei ha in mano, quello sull'obbedienza appunto. Obedire meglio le regole della compagnia dell'agnello, sarà interessante poi capire che cos'è questa compagnia dell'agnello. Intanto l'obbedienza è appunto ascoltare un'altra voce, la preghiera della chiesa ogni giorno comincia con questo primo comando, ascoltare un'altra voce che vuol dire non fidarsi di sé solo. Ma cosa c'entra con l'amore? Beh c'entra perché le emozioni appunto sono il centro dell'amore, sono in una sede un po' birichina a volte, quindi ascoltare un'altra voce significa sempre mettere a confronto il nostro cuore con Dio e quindi avere in lui l'altro, lo sposo alla fine per tutti è sempre lui, non solo per lei. La compagnia dell'agnello che sarebbe allora? È una vera compagnia di amici, di amiche che ho incontrato andando in giro per l'Italia a presentare i miei libri e poi alla fine c'è sempre un amico con cui divento un po' appunto amica alla fine degli incontri, con cui si intreccia un rapporto ed ho scoperto davvero un popolo di cristiani eroici, di santi sconosciuti, di santi del quotidiano che sono fedeli, obbedienti appunto alla propria realtà che a volte è faticosa e dura, a famiglie difficili, a figli malati, a lavori che non ci sono, a mariti o mogli che se ne sono andate e ho incontrato davvero un popolo di santi di cui nessuno parla. Che traducono l'amore nella vita, nei gesti piccoli quotidiani. Sì, e che ci ricordano che con l'aiuto della grazia è possibile. Perché l'agnello? Perché intanto l'agnello è Gesù, quindi è lui l'agnello che all'occorrenza è anche il leone della tribù di Giuda, quindi insomma è il vincitore, quindi è la garanzia che stiamo dalla parte dei vincenti e non perché vinciamo noi ma perché lui vince. E l'agnello anche perché occorre essere miti e quindi obbedire alla propria realtà, cioè partendo dal reale che ci salviamo, cioè accogliendo la nostra realtà e non fantasticando di altre vite possibili.